Sì, 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 verrà registrata, poi ovviamente se la registrazione non fosse particolarmente buona posso sempre provare a fare una registrazione a casa delle slide, della spiegazione, aggiungiamo anche quella. Allora, più o meno dovremmo esserci, dunque se vedete le slide, provo a presentarle, vedete abbastanza bene? Ok, grazie per la risposta. Questo in realtà è un sistema che ci permette anche di interagire un po' meglio, fare lezioni su YouTube è un po' strano per un docente. In realtà non so fino a che punto sono arrivato, quindi andrò veloce su queste slide iniziali di computer vision, così cerchiamo di recuperare. Insomma, queste sono un po' le slide introduttive. Stavo dicendo quando ancora eravamo su YouTube che ovviamente il primo sistema con cui ci paragoniamo per parlare di computer vision è l'occhio umano. Quindi se prendiamo anche una foto molto semplice come questa di questo fiore, per il nostro occhio è abbastanza semplice, per il nostro cervello è in realtà abbastanza semplice capire qual è il soggetto della foto, in questo caso il fiore, e per esempio separarlo dal background. Nonostante se voi pensate alla natura di queste immagini, il background sono delle piante e il soggetto in primo piano è anche una pianta. Quindi questa capacità che l'occhio umano ha, che il cervello umano ha, non è assolutamente scontata. Inoltre riusciamo a capire altre cose dall'immagine, per esempio la prospettiva. Cioè già a colpo d'occhio riusciamo a capire quanto siamo vicini a questo oggetto, o meglio quanto la telecamera è vicina a questo oggetto e quanto gli altri oggetti, le piante nello sfondo, sono lontane. Ovviamente in maniera approssimata, però abbiamo un'idea abbastanza concreta di questo senso di prospettiva. Prossima slide. Chiaramente il sistema di visione umano ha anche le sue debolezze. Non so, probabilmente conoscete questi esempi di effetti ottici. Allora, sulla sinistra ci sono due segmenti, questi segmenti sono uguali di lunghezza, però il fatto che ci siano state aggiunte queste frecce uscenti e entranti, mi fa sembrare di lunghezza diversa. E forse ancora più interessante, è un'idea di visione ottica che c'è sulla destra. Se vedete sulla scacchiera ci sono due caselle, una A e una B. Queste caselle, in realtà dal punto di vista dell'immagine, l'intensità del colore, hanno lo stesso identico colore. Nel senso che l'intensità luminosa e il colore è lo stesso. Adesso vi riuscite a vedere bene il bordo, perché non c'è. Sostanzialmente l'effetto che voi vedete della casella A come più scura della casella B è una sorta di compensazione che il vostro cervello fa, ma di fatto le due caselle hanno lo stesso colore. Questo è veramente qualcosa che confonde, no? Però questi sono effetti legati al fatto che il nostro cervello ci mette del suo nell'elaborazione dell'immagine. Ora, questo è solo per far vedere alcuni limiti. In realtà è molto potente il cervello umano. Per esempio, se noi guardiamo un'immagine pixelata come questa, in realtà riusciamo a capire alcune cose di quello che c'è nella scena. Io non so cosa sia la scena reale, però guardando, ovviamente distingo quattro persone, capisco anche che probabilmente la cosa che c'è al centro è una bandiera, io suppongo che sia degli Stati Uniti d'America. Quindi questo, se pensiamo a quanto è ridotta l'informazione che c'è in questa immagine, è già straordinario. Ora, questa è un'altra immagine un po' simpatica, perché ovviamente a sinistra c'è un'immagine blurred, sfocata, e a destra vediamo l'immagine reale. Quindi è un po' un trucco, chiaramente, perché la persona ha una scarpa invece di un telefono, e tutti gli altri oggetti che ha sulla scrivania sono oggetti casuali, diciamo così, che però una volta passati nel blur sembrano un pc, una tastiera, un mouse, eccetera, eccetera. Quindi, questo ovviamente, qui vediamo un limite legato al blur, questo è un limite sia per gli algoritmi computer vision che per l'occhio e il cervello umano. In queste immagini, quello che noi possiamo capire è che ovviamente c'è un limite all'informazione che può arrivarci, e il blur elimina alcuni dettagli significativi della scena. Allora, quindi, ogni immagine in realtà racconta una storia, qualcosa di più rispetto a un semplice insieme dei valori numerici che compongono i pixel dell'immagine. Per esempio, in questa immagine, chiaramente noi capiamo che c'è qualcosa che è avvenuto, cosa sta avvenendo in questo momento. Riusciamo a capire alcune informazioni di prospettiva, di tridimensionalità, e poi possiamo anche dare dei nomi agli oggetti. Probabilmente utilizzando la nostra esperienza possiamo anche capire cosa potrebbe essere successo. Quindi c'è anche una storicità nell'esaminare questa immagine. Queste sono tutte capacità non banali. Allora, se vedete in questa slide, il percorso sopra, il sensing device è l'occhio e l'interpreting device è il cervello. Questo è quello che noi abbiamo visto nelle prime slide. Sostanzialmente, ogni volta che viene presentata al nostro occhio un'immagine, questa viene acquisita ovviamente, però noi non riusciamo a distinguere il processo, la differenza tra acquisizione e elaborazione. Quindi sono fortemente accoppiate, quindi l'immagine passa attraverso la nostra retina e viene elaborata dal cervello e ci permette di capire quello che sta succedendo nella scena, o almeno provare a capirlo. Questo insieme di questa catena di elaborazioni non è assolutamente scontata e noi quando parliamo di computer vision dobbiamo vederla in maniera segmentata. Cioè, da un lato noi abbiamo dei sensing device e questi pongono delle sfide, dobbiamo capire come funzionano, quali sono i principi di funzionamento, come possiamo sfruttarli. Allo stesso tempo, una volta acquisita l'immagine, dobbiamo passarla attraverso degli algoritmi che possano estrarre l'informazione semantica. Allora lì veramente arriva l'aspetto più complesso e anche più affascinante di tutta la disciplina, perché riuscire ad avere quella capacità che gli esseri umani hanno non è assolutamente scontato per una macchina. Quindi, ovviamente sapete che un'immagine è fatta da un insieme di pixel, diciamo così, è come se fosse una matrice di numeri, ok? Quindi in sé per sé non è che dia grande informazione, senza un'ulteriore elaborazione. Allora, quando un'immagine di questo tipo viene presentata a un computer e a un essere umano, noi ci possiamo chiedere cos'è che è facile per un essere umano e cos'è che è facile per un computer. Cos'è difficile per un essere umano e cos'è difficile per un computer. Allora queste due cose non hanno una risposta costante nel tempo, ok? Quindi ovviamente ci sono delle operazioni geometriche per esempio che possono essere effettuate, degli algoritmi geometrici che possono essere effettuati facilmente su un'immagine. Non lo so, se avete un po' di esperienza con Photoshop o con Gimp, ovviamente ci sono tutta una serie di filtri o di operazioni che possono essere fatte sulle immagini, che se un essere umano dovesse farle ovviamente sarebbe difficile. Allo stesso tempo, a colpo d'occhio, per esempio, come abbiamo visto, l'interpretazione semantica di un'immagine non è una cosa scontata per una macchina, bisogna elaborare degli algoritmi molto sofisticati per farla, però per un essere umano è abbastanza facile. Ora, questo sta diventando via via più meno vero, nel senso, quello che per esempio adesso è lo stato dell'arte della computer vision in questi ultimi anni, ha visto un preponderante aumento dell'importanza delle reti neurali, dell'intelligenza artificiale, del deep learning, dell'interpretazione delle immagini. Gli avanzamenti che ci sono stati, per esempio, hanno reso molto efficaci alcune tecniche come l'object detection, ok? O la scene recognition. Queste cose stanno diventando semplici per una macchina. Un modo per descrivere questa cosa, l'ho sentito dire ad alcuni professori, è quello di considerare che tutte le task, tutte le cose che un essere umano fa guardando un'immagine, che gli richiedono un secondo, un secondo e mezzo, due secondi di tempo per essere elaborate, diciamo, per essere portate a termine. Bene, allora quelle sono cose che l'intelligenza artificiale riesce a risolvere bene. Quindi, non lo so, facciamo degli esempi. Un esempio può essere la videosorveglianza, ok? O riconoscere una faccia in una foto. Queste sono cose che il cervello fa molto in fretta e anche gli algoritmi riescono a fare adesso molto in fretta. Oppure la diagnostica per immagini delle radiografie. Quindi, quello che un radiologo esperto riesce a fare, guardando una lastra, ci mette pochi secondi a dire dove sono i problemi, bene, anche quello, una macchina riesce a farlo abbastanza velocemente. Chiaramente facile e difficile, in questo caso questo è solo l'output finale. In realtà, da un lato, dal punto di vista umano, per addestrare un radiologo ci vogliono anni e anni. Per addestrare una macchina, anche lì ci vuole qualcuno che scrive il codice e poi ci vuole un addestramento. Però, questo, dobbiamo capire che questa è una caratteristica fluida adesso. Non possiamo determinare in questo momento, in maniera costante nel tempo, cosa è facile, cosa è difficile. Questo è proprio il confine della ricerca e dello sviluppo in questo momento. Quindi, adesso vediamo un po' di applicazioni a computer vision, giusto per capire un po' quali sono i confini di quello che a noi interessa. Chiaramente, uno dei primi utilizzi a computer vision è quella di cercare di capire come è strutturato l'ambiente. Questo ci interessa molto nella robotica, però non è solo quello. Una delle cose è che, per esempio, avendo una scena e potendo capire in 3D com'è strutturata e come è animata, per esempio, potrebbe essere quella di capire cosa stanno facendo le persone, se stanno facendo dei gesti particolari ed eventualmente interpretare questi gesti. Chiaramente, avere una visione 3D del mondo ci permette anche di navigarlo. Questo è quello che interessa, per esempio, al robot. Altri aspetti interessanti, chiaramente, sono l'object recognition. In questo caso, per esempio, noi vogliamo capire quali sono gli oggetti che compongono una scena. Alcune volte vorremmo andare più in profondità e non semplicemente riconoscere, per esempio, o nella scena c'è un autobus, ma magari io vorrei riuscire a riconoscere esattamente quale autobus è, quindi distanza. Questo è più evidente quando, per esempio, creiamo un sistema di people re-identification, che, diciamo, una giustificazione potrebbero essere gli algoritmi di sicurezza. Una persona passa davanti a una telecamera di sicurezza, viene riconosciuta come persona, poi passa davanti a un'altra telecamera di sicurezza, dopo il fatto che noi sono al giro del palazzo. Vorremmo che un algoritmo fosse in grado non solo di riconoscere, hey, c'è una persona nell'immagine, ma hey, quella persona è esattamente la stessa che è passata davanti alla prima telecamera. Allora, questo vuol dire riconoscere l'istanza, non semplicemente l'oggetto. Chiaramente è molto più complesso di riconoscere un semplice oggetto. Altre cose che si fanno con la computer vision, ovviamente abbastanza semplice, è quello di aumentare la risoluzione e fare il denoising. Allora, questa immagine è un'immagine che è stata allargata e poi è stata fatta un'interpolazione, che è un'azione anche lì molto semplice, geometrica, però gli algoritmi più moderni in realtà riescono a fare della super risoluzione, cioè introducendo dell'informazione fittizia nell'immagine, quindi non è una semplice interpolazione, è qualcosa di più. Per esempio, in questa immagine, qui c'è lo stemma della macchina che non si riesce a riconoscere, perché ovviamente nell'immagine più piccola è solo un puntino bianco, no? Quindi allargando l'immagine, semplicemente interpolando, noi non possiamo creare informazione dal nulla, ok? In realtà algoritmi di deep learning moderni riescono a fare qualcosa di più, riescono anche a far vedere qualcosa di più. Questo perché? Perché creano informazioni dal nulla? No, ovviamente questo non è possibile. Però un algoritmo di machine learning in generale, attinge a un'esperienza acquisita elaborando altre immagini, quindi è come se avesse una prior sul mondo, quindi dove deve inserire dei pixel nuovi, li inserisce sulla base della sua esperienza. In un certo senso è quello che farebbe il nostro occhio, se noi allarghiamo questa immagine, io dovessi dire, ok, che macchina è? Riconosco il modello, riesco a immaginare qual è la forma dello stemma, anche se nella foto la forma dello stemma effettivo non riesco a vederlo. Quindi questo tipo di cosa è una capacità che negli ultimi tempi gli algoritmi di machine learning applicati da computer vision stanno sviluppando. Chiaramente ci sono tante cose di enhancing delle immagini, però possiamo andare veloce. Questo è un esempio di in-painting, cioè da un insieme di immagini della stessa scena è possibile ricostruire le parti mancanti o nascoste. Quindi in questo caso c'è una casa che occluderebbe un panorama, è stata ritagliata e grazie a una collezione di altre immagini l'algoritmo è riuscita a ricostruire quello che probabilmente ce l'è, probabilmente, nel senso ci ha aggiunto anche le barche, quindi noi non possiamo sapere se ci fossero delle barche dietro la casa, probabilmente no, quindi è artificiale, però il prodotto finale è fotorealistico. Tra l'altro questo è un paper del 2007, quindi non è stato fatto col deep learning, giusto per renderci conto che esiste la computer vision anche prima del deep learning. Ci sono molte altre applicazioni, forse una che ci interesserà sarà questa dell'Optical Character Recognition, qui è applicato alle targhe delle auto. A noi interessa un po' questa applicazione perché vorremmo cercare durante questo laboratorio, questi corsi i laboratori di riuscire a riconoscere le etichette, le label che ci sono sulle porte per esempio o all'interno delle stanze, in modo da dare degli indizi per un eventuale robot autonomo, degli indizi per riuscire a localizzarsi nell'ambiente, quindi questo per esempio richiede di poter riconoscere i caratteri scritti su queste etichette, quindi il riconoscimento di una targa è molto simile come problema, quindi ci appoggeremo un po' sullo stato dell'arte per questa cosa. Chiaramente tutti abbiamo un telefono che si sblocca, quasi tutti avremo un telefono che si sblocca guardando la nostra faccia, o che scatta dei selfie, semplicemente quando noi sorridiamo, tutte queste cose ormai sono abbastanza semplici per gli algoritmi. Questo abbiamo parlato quando ho parlato di instance re-identification, ovviamente forse può essere interessante giusto dire che questo tipo di elaborazione, esempio face recognition, si basa sul riuscire a mappare le facce in uno spazio numerico ad alta dimensionalità, in cui persone vicine sono rappresentate da vettori vicini fra loro, quindi ognuno di queste facce diventa un vettore numerico, supponiamo 512 valori floating point, ma nello spazio in cui le proietto tutte le foto della stessa persona idealmente sono vicine, e quindi questo mi permette di riconoscere che sono la stessa persona. Ok, questo è un esempio abbastanza famoso di fotografia, di un fotografo che si chiama Steve McCurry, una foto scattata nell'85 di una ragazza afghana, sicuramente l'avrete vista da qualche parte. Dopo un po' di anni, dopo 18 anni, il fotografo, diciamo così, si è andato a cercare da questa ragazza per vedere che fine avesse fatto, quindi c'è tutta la storia. La trova e la rifotografa, quindi questo è dopo 18 anni. La parte che io ho preso che può essere un po' interessante è il fatto che qualcuno ha voluto verificare che fosse veramente la stessa persona per farlo, ovviamente lo sapevano già che è la stessa persona perché l'hanno intervistata, però diciamo per far vedere la potenzialità della computer vision hanno fatto questa analisi della retina che ha permesso di, diciamo così, di validare ulteriormente questa realtà. Questa è l'ultima slide, penso, per quanto riguarda le applicazioni. Penso che spiega più o meno perché noi utilizziamo la robotica come esempio in questo laboratorio di intelligenza artificiale, perché ovviamente l'intelligenza artificiale, non lo so, è un po' come l'informatica ormai, no? Quando uno parla di machine learning o di intelligenza artificiale è qualcosa di così vasto che è difficile stabilirne adesso dei confini precisi, però è vero che nella robotica, in particolare nella robotica mobile, molti aspetti dell'intelligenza artificiale trovano un'espressione pratica e integrata fra loro. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che per noi il fatto di lavorare con robot in questo corso in realtà ci permette appunto di analizzare una gran parte delle problematiche dell'intelligenza artificiale. Probabilmente abbiamo visto come l'analisi dell'immagine sia fondamentale, vedremo anche come sarà importante la navigazione, quindi la rappresentazione di una mappa per un robot, la scelta di come navigarla, l'importanza di localizzarsi in questa mappa. Quindi ci sono alcuni temi molto importanti, alcuni temi che non tratteremo in questo corso sono forse l'interazione uomo-robot o la natural language human-robot interaction utilizzando il linguaggio naturale, diciamo. Quindi questi aspetti in realtà non riuscirebbero ad entrare nel corso di laboratorio, però sicuramente quello che faremo ci permetterà comunque di avere una visione di sistema. Vabbè, questa è un'altra slide sulla robotica, sulle mappe, eccetera, eccetera. Ok, non so, questa era solo un'introduzione, non so se avete domande, se no io continuerei con un altro po' di slide, visto che abbiamo avuto qualche difficoltà, probabilmente andrei almeno fino alle 10 con la lezione prima di fare una pausa. Ok, non vedo per ora domande. Allora, sostanzialmente noi ci stiamo chiedendo, stiamo cercando di vedere entrambi gli aspetti, sia l'aspetto sensoristico che l'aspetto di elaborazione. Per oggi, la lezione di oggi sostanzialmente è incentrata sul come l'immagine viene creata e come viene rappresentata. Chiaramente tutti gli esempi che vi ho fatto vedere finora sono di immagini già acquisite. Abbiamo anche confrontato questa capacità dell'essere umano con la capacità della macchina. Diciamo, ci siamo incentrati su questo che vedete nell'ellisse arancione, quindi abbiamo un attimo fatto un escursus di questo punto di vista dell'analisi delle immagini. Però un aspetto che in realtà oggi tratteremo è proprio come viene formata l'immagine, come funziona il sensore. Perché prima di poter lavorare sulle immagini, in realtà noi dobbiamo capire come queste vengono acquisite, perché una parte del lavoro, diciamo così, di robotica di basso livello, per esempio, è scegliere dei sensori adatti, capire come funzionano, calibrarli. Tutte queste cose possono essere fatte solo se capiamo come funziona tutto il sistema. Però prima di andare a quello, ovviamente su questo è proprio valore veloce, un'immagine ovviamente è una matrice di pixel, i pixel sono delle quantizzazioni della realtà. nel caso di un'immagine in scala di grigi, ogni pixel rappresenta un valore da 0 a 255 in numeri interi. Quindi 255 è il bianco, 0 è il nero, tutto quello che è in mezzo sono scale di grigi. E questo è quello che vedrebbe una macchina. La realtà ovviamente è continua, quindi anche l'intensità, noi possiamo vedere l'immagine come una mappa da R quadro ad R, continua, però in realtà questa continuità, noi dobbiamo renderci conto, viene quantizzata. Quindi viene sia campionata che quantizzata. Campionata nello spazio, perché abbiamo un numero finto di pixel, quantizzata perché i livelli di intensità sono limitati, quindi per esempio nel grayscale sono 256. Chiaramente noi lavoreremo principalmente con immagini RGB, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà l'immagine avrà rappresentata da tre valori, rosso, verde e blu, ognuno dei quali quantizzato da 0 a 255. Ci sono altri, ovviamente, altri spazi di colore, non so se qualcuno di voi li conosce, per esempio HSV, U, Saturation and Value, sono rappresentazioni equivalenti della stessa realtà, non farò forse qualche slide per spiegarvi più avanti, a volte viene scelto uno spazio di colore piuttosto che un altro, perché può dare dei vantaggi nell'elaborazione, però adesso lasciamo questa cosa sfumata. Anche su queste slide vado veloce, perché la prossima volta che faremo lezioni insieme, non so se sarà martedì prossimo o nelle settimane successive, vedremo più esempi di come si elaborano le immagini da un punto di vista dell'immagine stessa, perché dovremo capire, per esempio, come si estraggono alcune feature di basso livello, alcune caratteristiche di basso livello, per poter appoggiarci sopra algoritmi più complessi. Però oggi quello di cui dobbiamo parlare in realtà è come un'immagine viene catturata, e qual è il processo fisico, e come noi lo rappresentiamo matematicamente. Allora, questa slide l'abbiamo già vista. Questa cosa nei testi viene chiamata spesso geometria proiettiva, proiettiva, epipolar geometry, o a altri nomi, perché ovviamente... Vabbè, a tanti nomi, perché a seconda di dove finiscono i confini di quello di cui vogliamo parlare. Questa mattina noi parleremo principalmente di geometria proiettiva, di come l'immagine viene creata. Questa slide già mostra qualcosa di più, mostra come sono in relazione alcuni punti nello spazio rispetto a due viste diverse di una telecamera. Questa cosa noi la vedremo forse alla fine di questa lezione, è un po' in una delle esercitazioni, se avremo tempo, però più avanti la analizzeremo con più attenzione. Ci sono diversi testi di riferimento per questo, io qui ne ho segnato solo uno perché si trova comunque in rete un preprint. Se vorrete altri testi di riferimento posso darvi dei titoli, non c'è problema, però diciamo che questi sono argomenti di base di Computer Vision, non dico che li trovate su Wikipedia, anche, li trovate anche su Wikipedia sicuramente, però insomma qualunque libro di Computer Vision può darvi le informazioni che volete, se volete approfondire. Prima di andare direttamente a qual è il modello di una telecamera, dobbiamo parlare un po' di alcune trasformazioni. Nella lezione di martedì scorso, Giorgio aveva un po' parlato di algebra lineare, e quello che io vi farò vedere di fatto è algebra lineare, però è un sotto insieme di quell'algebra che ci interessa di più. Quindi di base, ora vorrei introdurre velocemente alcune delle trasformazioni fondamentali che ci servono per capire quello che succede in una telecamera. Allora, qui già in questa scena vedete le trasformazioni di cui parleremo. Quindi sostanzialmente queste sono trasformazioni 2D, hanno un equivalente anche 3D, però sostanzialmente sono in una gerarchia, che dopo vedremo meglio. Però, diciamo, la traslazione è la prima. Quello che la traslazione fa, se lo devo riscrivere in linguaggio naturale, è semplicemente spostare nel piano la figura, senza ruotarla, senza cambiare dimensione, senza fare alcun'altra alterazione. Quindi le linee parallele rimangono parallele, le lunghezze rimangono uguali, gli angoli rimangono uguali, l'orientamento rimane uguale. Quindi la maggior parte delle cose rimane invariante, eccetto il fatto che cambia posizione. Più generale di questa c'è la trasformazione euclidea, o anche trasformazione corpo rigido, rigid body transformation. Cosa ha di differente rispetto alla traslazione? Aggiunge una rotazione. Quindi sostanzialmente il quadrato rimane quadrato, però può cambiare l'orientamento. Se vogliamo anche cambiare scala, allora questo ci porta alla similarità. Quindi sostanzialmente la similarità aggiunge alla rotazione anche un cambiamento di scala. La trasformazione affine, la trasformazione nel piano lineare più generale, se vedete non preserva gli angoli, non preserva le lunghezze, non necessariamente almeno, però preserva per esempio il parallelismo e altre cose in realtà anche. L'ultima trasformazione, che poi è quella che ci interessa di più, è quella proiettiva, in cui l'unica cosa che viene preservata di fatto è la collinearità. Adesso vedremo perché. Ora prima volevo un attimo sottolineare un punto, può darsi che questa cosa sia un po' ovvia, non lo so, però quando noi descriviamo una trasformazione come la traslazione nel piano, in realtà descriviamo un'operazione che, almeno scritta come è scritta nella parte alta della slide, è un'operazione non lineare. Perché non è lineare? Perché se voi provate a applicare il principio di sovrapposizione, vedrete che in un caso avrete due t, e in un altro caso avrete più t. Invece queste due, per essere lineare, queste due t di x più t di y dovrebbe essere uguale a t di x più y, no? Allora, questo è un problema girabile con un trucco, che è molto semplice, abbiamo visto già anche martedì scorso, però è così importante che vale la pena sottolinearlo di più. Questo trucco è quello di utilizzare coordinate omogenee. Perché è un trucco? Perché di fatto noi artificialmente stiamo aumentando la dimensione dello spazio. Cioè la traslazione vivrebbe tranquillamente in uno spazio bidimensionale, però noi artificialmente aumentiamo questa dimensionalità, noi aggiungiamo questa terza dimensione. Le coordinate omogenee sono state introdotte per motivi vari, quindi non sono state introdotte solo per questo trucco che a noi serve, hanno un significato profondo nella geometria proiettiva. Di fatto un punto in coordinate omogenee rappresenta più che un punto una direzione, cioè se supponiamo di avere un piano, e di riuscire a indicare in questo piano tutti i punti con le coordinate x, y, se questo piano è immerso nello spazio, come in figura, allora noi riusciamo a individuare anche una direzione, che è la direzione, diciamo, sì, di proiezione di quel punto attraverso il centro di questo sistema di coordinate. Sostanzialmente questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un parametro in più che viene aggiunto, allora viene aggiunta una coordinata in più, e un parametro che ci dice sostanzialmente, se questo è il punto x, y, c'è una linea che passa attraverso questo punto x, y, che congiunge il centro delle nostre coordinate con questo punto. E qui c'è anche un parametro che mi dice dove si trova su questa linea il punto. La questione è che in coordinate omogenee, quando vengono rappresentate in coordinate omogenee, si considera che tutti questi punti in realtà siano equivalenti per noi. cioè questo parametro v non distingue, cioè x tilde è sempre x tilde, al di là di qual è il valore di w, ok? Ci dice dov'è nella linea, però è come se rappresentasse, rappresenta sempre lo stesso punto, perché in realtà a noi interessa il piano, quindi nel piano quel punto è sempre se stesso. Quindi è una rappresentazione di punti, diciamo così, rappresentati in questo caso nel piano, però che si appoggia alla terza dimensione. In questa rappresentazione, tra l'altro, noi possiamo anche rappresentare bene i punti all'infinito, nel senso che quando la terza coordinata, invece di avere un valore numerico, è zero, praticamente ci dice che sta indicando una direzione, ma non una profondità lungo questa direzione. Allora, questo per noi è un punto all'infinito, oppure un vettore. Quindi, utilizzando questo trucco, cioè aumentando il vettore, possiamo riuscire a scrivere la traslazione in forma algebrica, lineare. Cioè riusciamo a scrivere in forma matriciale. E questo per noi è un'enorme semplificazione. Quindi la traslazione in questo caso diventa una matrice composta da, ovviamente, i valori tx, tx, che erano la nostra trasformazione originale, più una matrice identità. Quindi questo è abbastanza ovvio, potete verificare la linearità voi stessi. La rappresentazione che noi utilizziamo in maniera compatta è questa oppure questa, secondo delle necessità. sostanzialmente sono la stessa cosa. Quello che cambia è se il risultato noi lo vogliamo in coordinate normali, in questo caso x' grassetto indica solo x' y', mentre x' grassetto con il hat, no hat, questa linea orizzontale, rappresenta le coordinate aumentate o omogenee. Quindi sostanzialmente questo vettore che vedete qua è questo qua. Ok? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questa rappresentazione qua, scusate, questa rappresentazione qua è esattamente questa qua. Quindi i è una matrice 2x2 identità, t è il vettore di traslazione, e poi c'è una riga composta da questi due zeri e un 1, che ci serve per aumentare, diciamo così, la trasformazione per avere il risultato in coordinate omogenee. A seconda dei casi, uno può usare uno o l'altro, però la trasformazione è lineare. A questo noi abbiamo già detto. Quindi chiaramente c'è una gerarchia di queste trasformazioni, una gerarchia data da alcuni aspetti. Innanzitutto dal numero di grai di libertà che ho per la trasformazione. Per la traslazione nel piano mi basta sapere due numeri per identificarla. quando aggiungo la rotazione nel piano, aggiungo l'angolo di rotazione, quindi ho il terzo grado di libertà. Se voglio fare una similarità, quindi cosa succede? Aggiungo un fattore di scala che moltiplica la matrice di rotazione. Io spero che questa... Non ho esplicitato nelle slide come sono queste matrici, però penso che sia abbastanza ovvio. Questa per esempio è una matrice di rotazione 2x2, questo è un vettore 2x1, quindi insieme diventano una matrice 2x3. Qui S è uno scalare, quindi che moltiplica la matrice di rotazione, e quindi sostanzialmente è il quarto grado di libertà. La matrice che identifica un'affinità, sostanzialmente la più generale, è un caso che contiene ovviamente in sé anche la similarità, come caso particolare, però sostanzialmente è quando voi prendete questa matrice 2x3 e date i numeri in maniera arbitraria. Ora, quella è un'affinità. Allora, fino a qua cosa succede? Le trasformazioni nel piano sono, diciamo, lineari, nel senso che, per esempio, se prendete una similarità, una rotazione, o una trasformazione affine, se prendete una figura geometrica come queste qua che sono di fianco, dove effettivamente si trovi nel piano prima della trasformazione, non fa molta differenza, nel senso che la trasformazione sarà uguale sia che io parta da una posizione del piano che da un'altra, no? Io, per esempio, ho questo quadrato, lo voglio trasformare con una trasformazione rigida, se questo quadrato è centrato sull'origine degli assi oppure è spostato di 10 punti in x e 10 punti in y, non fa differenza, la trasformazione agirà nello stesso modo, l'unica differenza sarà che la posizione finale cambierà. Invece, nel caso della trasformazione proiettiva, dell'omografia, questo non è più vero, nel senso che questa trasformazione è una trasformazione che nel piano deve essere applicata dalle coordinate omogenee e va a trasformare le coordinate omogenee, cioè l'effetto è come dire, lo vedremo dopo con alcune figure, quindi ci ritornerò, però è non lineare, vale a dire che dipende dalla distanza, per esempio, se noi lo consideriamo come una proiezione, perché è una proiezione, dipende dalla distanza dal punto di proiezione, quindi in un certo senso è come dire, questa non è una trasformazione lineare nel piano. Allora, prima di fare la pausa, faccio un po' di slide su OpenCV, sono tre slide, giusto per dire, ok, ma tutta questa roba che ci serve? Questa roba ci serve perché di base sono gli elementi costituenti, proprio base, 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 fondamentali dei codici che noi dobbiamo scrivere. Quindi dobbiamo capire in che modo noi le andremo a utilizzare. OpenCV è una libreria di computer vision molto potente, come vi dicevo. Allora, oggi ve la presento utilizzando il linguaggio Python, andando avanti probabilmente passeremo al C++. Il motivo per cui a noi interessa comunque che voi possiate lavorare con C++ è il fatto che, per esempio, in sistemi robotici, su hardware limitati, come può essere l'Arduino, le performance non sono una cosa trascurabile. Quindi questi algoritmi sono anche molto onerosi, riuscire ad implementarli con un linguaggio di basso livello permette di risparmiare tanti cicli in macchina. Allo stesso tempo ci sono alcune operazioni che possono essere fatte ad alto livello e ci sono anche dei livelli di interfaccia. Quindi in realtà OpenCV è tutta scritta in C++. Quindi quando la vedete implementata in un'interfaccia Python è proprio un'interfaccia, un wrapper. Quindi io adesso vi spiego le funzionalità utilizzando questo wrapper perché comunicativamente è più semplice, però andando avanti probabilmente passeremo a utilizzare il C++. che ha una sintassi più ampollosa, diciamo così, non ampollosa, più ricca perché deve permettere alcune cose, è più rigida perché non vuole permettere alcune cose, mentre Python permette di fare tutto. Però allo stesso tempo è anche educativa, soprattutto voi che vi state formando come ingegneri informatici, è molto utile riuscire a imparare alcune cose con un linguaggio tipizzato piuttosto che con uno che non lo è, come Python. perché vi permette di non prendere delle cattive abitudini. Comunque, venendo al codice che c'è in questa slide, la libreria in Python viene importata con CV2. C'è una domanda tecnica, tra un minuto rispondo, finisco di spiegare questi due o tre slide. In questo caso le librerie che noi utilizziamo di Python sono molto semplici. NumPy è una libreria di linear algebra, sicuramente la conoscete. Le funzioni che qui vengono mostrate sono abbastanza basilari. OpenCV permette di leggere delle immagini con questa funzione inbreed. Ovviamente l'immagine poi viene rappresentata nel wrapper di Python come un array di NumPy. Forse la cosa che ci interessa di più in questa immagine è questa trasformazione, scusate, questa funzione, warp a find, che in sé integra tutte le trasformazioni che abbiamo visto fino a quella fine. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è la traslazione o la rotazione, basta. Anzi, in realtà la rotazione, diciamo, più o meno c'è. Però l'applicazione di queste trasformazioni in OpenCV avviene attraverso questa funzione warp a find. Oltre a questo ci sono delle funzionalità per vedere queste immagini. OpenCV ha alcune cose molto interessanti che vedremo. ha un gestore di finestre, quindi apre le sue finestre in cui noi possiamo mostrare le immagini, però ha anche un sistema di event handling. Cioè noi possiamo interagire con queste finestre, con dei mouse click o drag and drop o cose di questo tipo. In che senso possiamo interagire? Nel senso che OpenCV ci dà tutte le API che ci permettono di lavorare con gli eventi, tipo il click del mouse. E questa è una cosa che vedremo nell'esercitazione di venerdì. Sostanzialmente quello che viene descritto qua in queste ultime tre righe è mostro l'immagine e poi aspetto un keypress, che venga premuto qualcosa, prima di chiudere tutte le finestre. È abbastanza base. Ci sono altri due esempi, uno sulla rotazione. Di nuovo, warp and find è quello che noi utilizziamo. Quello di cui ha bisogno è l'immagine originale e la matrice dei coefficienti della trasformazione. In questo caso la matrice si ottiene, nel caso precedente l'avevamo scritta a mano, quindi c'è l'identità più la traslazione di cento e cinquanta pixel, x e y. Qua invece abbiamo una rotazione. Sostanzialmente, visto che scriversi a mano una matrice di rotazione può essere laborioso, in 2D si tratta di calcolare un seno e un coseno sostanzialmente, però abbiamo una funzione che lo fa, noi possiamo dire la rotazione in angoli e OpenCV ci dà l'equivalente trasformazione. L'ultima che vi voglio far vedere, prima di fare la pausa e rispondere alle domande, è quella a fine. Sostanzialmente, nella gerarchia, la trasformazione a fine è una trasformazione che ha 6 gradi di libertà. Questo che cosa vuol dire? Da un punto di vista pratico, se voi volete ottenere una trasformazione a fine, dovete dare 3 punti non allineati, in modo che questa trasformazione a fine possa essere univocamente identificata. Non dovete calcolare la mano del sistema per ricavarvi la matrice della trasformazione a fine, di nuovo OpenCV ci viene in aiuto e ha questa funzione get-up-find-transform che ci permette, dati punti iniziali e punti finali, di calcolare la matrice della trasformazione. E di nuovo, work-up-find ci permette di applicarla a un'immagine. Vediamo cosa c'è dopo. Questa è la gerarchia delle trasformazioni in 3D, penso che è auto-esplicativa, è solo che aumenta la dimensionalità, però i ragionamenti sono gli stessi. Ora, volevo vedere un attimo se c'erano domande. Matteo Feliziani chiedeva, però è stata già data una risposta. Domanda tecnica, nella repository git ci sono due scritte sh. Dobbiamo lanciarli nel terminale per istitare tutto quello che serve nel corso? Sì, soprattutto nella parte di Giorgio, nel senso che nella parte che faccio io ancora sto definendo i confini di questa cosa, perché devo capire bene quali funzioni di OpenCV posso usare o no con ROS melodic, perché se non sbaglio si basa su OpenCV 3. qualcosa, mentre la versione più nuova di OpenCV è la 4.5, credo. l'altra cosa è che almeno per la prima esercitazione è sufficiente installarsi un virtual environment di Python, quindi per quello non è che serve avere una distribuzione Linux o che ognuno di voi può fare come preferisce per fare questo virtual environment, è un esercizio abbastanza autocontenuto. Andando avanti, in realtà ci appoggeremo sempre sulla stessa virtual machine. Allora, José chiede, io non ho capito a cosa serve aggiungere gradi di libertà con le coordinate omogenee. Allora, sostanzialmente a cosa serve? La risposta semplice è ci permette di rappresentare in forma matriciare le operazioni. Nel senso, qui ho nella slide ho solo la traslazione, magari ci aggiungo un altro paio di slide, ve le ripubblico, in cui c'è anche la rotazione e la trasformazione a fine, però sostanzialmente se voi volete fare una traslazione, dovreste programmare una traslazione, come lo fareste? Allora, il modo della serva è prendere un vettore e sommarci un vettore equivalente, di dimensione equivalente. Quindi questa è un'operazione che voi potete fare fisicamente, diciamo, sul codice, no? Definite un vettore x, y e poi fate più un altro vettore t, x, t, y, ok? Lo fate in Python, lo fate in C++, lo fate nel linguaggio che volete. Questa è una cosa che voi potete fare, però, come dire, noi abbiamo un altro modo di fare queste operazioni, che è quello della linea algebra, cioè fare moltiplicazioni tra matrici. Allora, perché uno vuole fare moltiplicazioni tra matrici? Intanto, come dicevo prima, è un'operazione lineare. La seconda cosa, però, è anche che questo tipo di operazioni sono molto efficienti. Ci sono librerie che rendono molto efficienti questo tipo di calcolo, e inoltre ci sono anche acceleratori hardware all'interno dei nostri processori, che permettono di fare queste operazioni molto velocemente. Quindi, in generale, riuscire a portarsi in forma matriciale, in generale, proprio quando voi scrivete il codice, anche in Python, non è una questione di C++, se voi potete scrivere in forma matriciale tutte le operazioni che fate, a livello più basso sono possibili delle ottimizzazioni, che rendono il codice molto più veloce. Quindi, di base, questa è la spiegazione. Poi, ovviamente, uno può trovare delle spiegazioni matematiche più sofisticate sul perché è utile aumentare la dimensionalità, però, diciamo, a livello proprio basso e basso e basso, è che ci permette di fare prodotti matriciali, o matrice vettore, diciamo. Esatto, sì. Se non ci sono altre domande, io farei qualche minuto di pausa, anche perché la gola poi cede, e poi vi faccio la parte sulla camera matrix, e poi vi presento l'esercitazione, più o meno dovrebbe essere questo. Quindi direi, facciamo pausa finale 10, diciamo, e poi ricominciamo. Grazie. 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 Ci siamo? Allora. Perfetto. Allora, veniamo a noi. ora abbiamo fatto un'introduzione a computer region un'introduzione alle trasformazioni nel piano e vagamente nello spazio e ora vediamo a cosa ci serve tutta questa roba come dicevo il punto è dobbiamo capire come viene generata un'immagine c'è tutta una parte del processo di generazione dell'immagine che non ho messo nelle slide che riguarda proprio una teoria più che altro fisica di come un oggetto noi percepiamo un oggetto in quanto riflette la luce del sole per esempio una luce artificiale non tutta la luce viene riflessa parte viene assorbita parte viene diffratta, rifratta quindi ci sono tante cose che avvengono tra la luce che parte dalla sorgente luminosa colpisce l'oggetto e arriva al nostro occhio al sensore tutta quella parte noi adesso un attimo non la consideriamo perché comunque l'implicazione pratica non so se noi riusciremo a vedere l'implicazione pratica c'è un'implicazione pratica però richiede strumenti più avanzati mentre quello che noi vedremo sicuramente è l'aspetto più evidenziato dall'ellisse quindi una volta che la luce rimbalza sull'oggetto e va verso la telecamera com'è che avviene questo processo di diciamo così in cui la telecamera la trasforma questa immagine in un'immagine come noi la conosciamo no? digitale quindi questa è una slide che più o meno spiega quello che succede proprio in layman terms diciamo supponiamo che film intende la pellicola supponiamo che noi siamo ancora nell'epoca della fotografia analogica quindi un film sarebbe sostanzialmente un supporto che coperto da alcuni componenti chimici fotosensibili che possono cambiare colore se vengono colpiti da un raggio luminoso ok? e noi vogliamo rappresentare un oggetto ma cosa succede? il punto è questo oggetto qualunque punto dell'oggetto una volta che la luce lo colpisce diciamo supponiamo la luce del sole qualunque punto dell'oggetto fa rimbalzare dei raggi luminosi in tantissime direzioni ma questo che cosa vuol dire? vuol dire che se ho tanti punti tutti questi punti mandano raggi diciamo in maniera omnidirezionale quindi se io lo vedo dal punto di vista della pellicola io dovrei vedere in ogni parte della pellicola l'accumulo di tutti dell'impressione di tutti i raggi luminosi che rimbalzano su tutto quello che c'è nella scena e che arrivano alla pellicola di fatto è quello che succede io adesso non so probabilmente voi non avete esperienza delle macchine delle vecchie macchine con la pellicola forse qualcuno di voi si però sostanzialmente si compravano dei rullini in cui era arrotolato questo film questa pellicola che rigorosamente stava al buio dentro la macchina fotografica era al buio se voi srotolavate la pellicola quello che succedeva è che la pellicola si veniva come dire esposta alla luce dell'ambiente che è tutta la luce non solo la luce del sole è tutta la luce che rimbalza da tutti gli oggetti e quindi sostanzialmente la pellicola è rovinata perché diventa un enorme alone grigio bianco allora noi non possiamo utilizzare questo sistema per avere delle immagini e quello che facciamo è porre una barriera di fronte a questa a questa pellicola cosa fa questa barriera? se questa barriera ha un piccolo foro ma veramente molto piccolo allora quello che succederà è che solo alcuni raggi passeranno attraverso questo piccolo foro quindi ogni punto potrà contribuire perché gran parte dei raggi verranno bloccati e solo alcuni dei raggi arriveranno alla pellicola fateci caso tra l'altro arrivano in ordine invertito quindi gli oggetti più alti del foro in realtà sono upside down sono in basso allora questo è il principio della telecamera che noi utilizziamo si chiama pinhole camera perché è una telecamera basata su questo semplice principio una barriera un muro in cui è praticato un piccolo foro se questo foro è sufficientemente piccolo in realtà va bene è anche un foro grande vedremo che effetto fa con questo piccolo foro solo alcuni raggi possono passare quindi in teoria sulla parete opposta a quella forata dovrei vedere l'immagine ribaltata io non so se voi avete idea questa è una cosa molto antica questa slide fa semplicemente vedere che se ne parlava questa tecnologia è una cosa del 1500 ed è straordinaria ovviamente si chiama camera oscura avete sentito ed è il motivo per cui le fotocamere le telecamere si chiamano camera perché originalmente il principio era quello di avere una stanza buia con un foro da una parte per poter vedere l'immagine quindi è il motivo per cui si chiama camera è una cosa che in realtà io non lo so probabilmente avrete visto sui film perché non so se fanno fare questi esperimenti di scienze a liceo in Italia io non l'ho mai fatti l'ho visti solo sui film tipo Wonder però sostanzialmente voi potete costruire una camera oscura basta che prendete una grossa scatola chiusa completamente eccetto che per un piccolo foro chiaramente la scatola deve essere abbastanza grande per voi per poter stare dentro e vedere l'effetto qui fa vedere un po' come poterlo fare in una stanza però dovreste praticamente chiudere tutta la finestra della vostra stanza eccettuato per un piccolo foro quindi dovreste stare proprio attenti a chiudere ermeticamente rispetto alla luce tutti i spiragli perché in realtà qui già si vede una debolezza che forse da questa foto non è apparente questo sistema funziona però è molto fioco perché i raggi che passano sono pochi quindi da un lato noi non abbiamo la sovrapposizione di tanti raggi rifratti da varie direzioni dall'altro in realtà pochi raggi vuol dire poca luce però questo problema adesso noi non ci concentriamo su questo pensiamo più alla geometria perché c'è una soluzione per quel tipo di problema quindi l'idea fondamentale è che se noi abbiamo questo tipo di device possiamo riuscire ad avere l'immagine proiettata su qualcosa io ho parlato di pellicola perché è un modo per capire da un punto di vista analogico però di fatto da un punto di vista digitale è la stessa cosa noi abbiamo una telecamera CCD vuol dire che c'è un sensore elettronico che è in grado di come dire catturare i fotoni ok e trasformarli in un segnale elettrico che poi viene elaborato e trasformato in pixel quindi il CCD è l'equivalente dell'antica pellicola fotografica ora una cosa importante da capire è che questa trasformazione qua è una proiezione per questo abbiamo fatto prima quell'introduzione di trasformazioni nel senso che questa è in 3D ovviamente non è in 2D però è la stessa cosa può essere questa trasformazione può essere rappresentata da una matrice 4x4 una omografia in 3D e quindi adesso cercheremo di capire cosa vuol dire questa cosa allora questa foto è del palazzo Spada è interessante perché questa galleria sembra molto lunga in realtà è stata costruita e dipinta in modo tale da sembrare lunga però è lunga pochi metri questo che cosa vuol dire questo ci fa vedere una delle particolarità della trasformazione proiettiva cioè che la profondità non è una cosa semplice da capire ok è quel grado di libertà che noi in un certo senso perdiamo ciò che viene mantenuto da una proiezione però è la collinearità quindi punti che sono sulla stessa linea una volta proiettati rimangono sulla stessa linea quindi vediamo un attimo quali sono gli effetti di una proiezione una proiezione da un punto di vista geometrico vuol dire avere un centro di proiezione in questa foto è O e tracciare una linea da un punto dello spazio verso un piano immagine che qui è rappresentato con la lettera pi greco maiuscola chiaramente qui entra in gioco quel discorso che vi dicevo della non linearità la non linearità sta nel fatto che a seconda della distanza degli oggetti con la proiezione questi appaiono nel piano immagine di dimensioni diversa quindi questo è quello che noi chiamiamo prospettiva se vediamo un oggetto molto piccolo di cui conosciamo le dimensioni originali rappresentate in una foto diciamo ok quell'oggetto è lontano dalla telecamera questo perché il nostro cervello fa proprio questo ragionamento sa come funziona la proiezione almeno in maniera intuitiva e quindi ci informa che un oggetto piccolo è probabilmente un oggetto lontano l'altro aspetto che avviene con la proiezione è il fatto che le linee parallele in realtà non rimangono parallele si intersezionano quindi questa cosa sicuramente non c'è bisogno di spendere tante parole avrete fatto alle medie educazione tecnica anche al liceo probabilmente tanti disegni di proiezione di prospettiva quindi è abbastanza ovvio però la trasformazione cosa vuol dire è proprio alla base del fatto che la trasformazione di proiezione non preserva le lunghezze le dimensioni però preserva la collinearità quindi l'unica cosa di cui noi siamo sicuri è che i punti che stavano sulla stessa linea rimangono sulla stessa linea anche una volta proiettati quindi noi dicevamo le cose di cui siamo sicuri è che i punti vengono mappati in punte linee mappate in linee però altre cose non sono preservate dalla proiezione quindi le distanze non sono preservate gli angoli non sono preservati del resto questo non veniva preservato neanche dalle trasformazioni affine e quindi l'omografia è una generalizzazione ulteriore della trasformazione affine quindi ovviamente non preserva né angoli né distanze poi ci sono un po' di casi dei generi però questi magari li vediamo con gli esempi successivi sì sì perché allora ci sono alcuni aspetti che del da del da piano camera che vanno introdotti gradualmente perché introducono anche una terminologia allora la terminologia ovviamente viene fuori dall'idea originale quindi quando parliamo di una telecamera parliamo per esempio di distanza focale e del centro della telecamera ok il centro della camera ma il centro della camera sostanzialmente è il centro di proiezione quindi geometricamente è il foro per cui cioè realmente è il foro geometricamente è il centro di proiezione è il foro attraverso cui passano i raggi il fuoco è la distanza che c'è tra il centro di proiezione e il piano immagine che in una vera stanza è il muro in una di una presentazione geometrica può essere un piano verticale in realtà arbitrario allora queste slide sottolineano questo aspetto qua cioè che se io voglio fare una trasformazione di proiezione di proiezione per un punto quello che devo fare è questa operazione che vedete qua sostanzialmente è una scalatura dove è? pulsiamo nel mouse lo sono perso eccolo sostanzialmente io trasformo un'immagine 3D di cui ho i punti x, y, z in un'immagine 2D quali sono le coordinate di questi punti 2D nel piano? allora questi dipendono dalla distanza relativa cioè dalla z quindi quanto è distante l'oggetto dal centro supponiamo che ovviamente il centro delle coordinate sia anche il centro della telecamera per comodità allora i due elementi che entrano in gioco sono la distanza ovviamente da questo centro tanto più è distante tanto più schiacciata sarà questa immagine quindi la z è il denominatore però dipende anche dal fuoco cioè tanto tanto più distante sarà questo piano immagine dal centro di proiezione tanto più grande sarà l'immagine quindi ecco il motivo per cui f è moltiplicato per questi due scritta così ovviamente questa è una trasformazione che noi possiamo programmare in codice però di nuovo non è lineare no? quindi questo discorso è già fatto queste slide sono ridondanti quindi quello che succede è anche in questo caso no? come abbiamo visto nella traslazione noi diciamo ok sì possiamo fare la proiezione facendo quell'operazione lì però non è un modo ottimale di lavorare vogliamo rappresentarla in un modo che sia efficiente di nuovo il modo è utilizzare il coordinato omogenee nello spazio eventualmente nel piano in modo da poter scrivere questo ok? quindi quella stessa operazione può essere trasformata in un'operazione matriciale semplicemente facendo questa piccola aggiunta di coordinate omogenee quindi se voi vi fate adesso i conti non adesso vi fate i conti righe per colonne è abbastanza semplice vedere che ottenete questa rappresentazione qua allora in realtà questa è una rappresentazione che non è esattamente equivalente a questa nel senso quello che noi facciamo è creare una matrice in cui x e y possono essere moltiplicate per f ok? dove rimane la z? la z rimane come un parametro di una coordinata omogenea allora questo è una cosa che non ci deve confondere è legata al fatto che appunto dicevamo i punti su una linea di proiezione sono sempre gli stessi punti nel senso che la distanza ragioniamo così quando voi proiettate un oggetto nello spazio su un piano sostanzialmente tutti i punti che si trovano su questa linea hanno sempre la stessa proiezione non sono distinguibili da noi quindi io non so questo cerchio paradossalmente che io vedo sul piano immagine non è detto che io sappia a che distanza è stato preso cioè potrebbe essere questo cerchio qua che è disegnato oppure un cerchio più grande a distanza più grande perché comunque avrei gli stessi punti rappresentati sulla stessa linea quindi questi vengono proiettati sulla stessa linea quindi sostanzialmente nella proiezione quello che succede è che io perdo questo senso di prospettiva vengono schiacciati io perdo una caratteristica quindi ci sono vari modi per rappresentare questo quando io incomincio a montare la camera matrix la matrice scusate della telecamera incomincio a montare questa trasformazione però mi accorgerò che alcune cose potrei perdermele per strada una di queste cose è la distanza effettiva dei punti quindi in questa rappresentazione algebrica intanto cosa sta succedendo un punto 3D viene moltiplicato per questa matrice in cui semplicemente x y vengono moltiplicati per il fuoco che è la prima operazione però non c'è una divisione per z ok z viene mantenuto tale e quale quindi per ora ma questa cosa non è un reale problema perché se ci pensate di fatto è solo una scalatura dell'immagine quindi per me questo fatto di dividere per z non è una cosa tanto importante in quanto come dire è una cosa che io ho introdotto per descrivere il processo che avviene fisicamente se voi avete una camera oscura però di fatto da un punto di vista dell'immagine proprio per il fatto che è indipendente da questa profondità dall'asse delle z l'immagine non ha bisogno di quella coordinata quindi sostanzialmente x e y possono vivere tranquillamente senza la terza coordinata quindi la proiezione è rappresentata da una matrice una proiezione 3d 2d è rappresentata da una matrice 3x4 ok in coordinate omogenee ora tutto questo racconto che vi ho fatto è un racconto che non tiene conto di niente cioè è la cosa più generale possibile vale a dire ci sono tutta una serie di assunzioni le assunzioni intrinseche vuol dire quando si parla di intrinseco e estrinseco intrinsic e extrinsic in termini di computer vision indicano uno le cose che riguardano la telecamera e il sensore l'altro le cose che riguardano come il sensore è disposto nello spazio quindi intrinseco sono gli effetti che i parametri interni della telecamera hanno sulla generazione dell'immagine e strinseco sono gli effetti che la posizione della telecamera nello spazio hanno sull'immagine quindi intanto concentriamoci sulle assunzioni prima di tutto una cosa che noi abbiamo detto pensato è ok quando viene proiettato un oggetto su un piano della telecamera la ah ok si scusate ovviamente questa matrice di proiezione è composta in realtà da due parti la parte che voi vedete evidenziata è quella che viene chiamata la matrice intrinseca la terza la quarta colonna invece che c'è è semplicemente l'aggiunta di quella colonna omogenea che ci serve per far tornare la trasformazione come una trasformazione lineare quindi in realtà tutto il contenuto informativo sui parametri intrinseci della telecamera è in quella matrice k che vedete là quella matrice k come è rappresentata adesso è abbastanza vuota non ci dice molto ci parla del fuoco della telecamera però non sembra così importante alla fine è un numero in realtà bisogna incominciare a eliminare le assunzioni la prima assunzione che dobbiamo eliminare è quella che il centro ottico sia su 00 cerco di spiegare questa cosa quando ho fatto il disegno della telecamera la prima volta vi ho detto scusate sto perdendo la voce c'è un centro di proiezione con cui utilizziamo per proiettare i raggi chiaramente noi possiamo prendere quel centro anche sull'immagine la proiezione del centro direttamente perpendicolare sul piano immagine e considerarlo come l'origine l'origine degli assi per l'immagine e questo è quello che succede quando noi abbiamo una camera fatta così la realtà però è che i sensori di immagine veri non utilizzano le coordinate partendo dal centro dell'immagine cioè quando voi anche utilizzate un programma di immagini come photoshop probabilmente avrete visto che le coordinate dell'immagine partono dall'angolo in alto a sinistra questa è un'assunzione molto comune è un'assunzione legata a come viene realizzata l'elettronica della telecamera questo che cosa vuol dire in un processo di proiezione niente che bisogna traslare come se fosse una traslazione di coordinate allora noi abbiamo visto che la traslazione abbiamo visto un po' di slide fa la traslazione equivale ad aggiungere due numeri sostanzialmente in due posizioni ben specifiche quindi U0 e V0 qua e CX CY qua purtroppo le figure vengono da libri diversi sostanzialmente rappresentano la stessa cosa cioè di quanto è spostato l'origine degli assi di riferimento XY rispetto al centro del piano immagine quindi questa è la prima modifica alla matrice K che facciamo per eliminare alcune assunzioni allora la seconda cosa i punti ovviamente in una proiezione geometrica i punti sono punti prima che questi punti poi vengono in realtà rappresentati con dei pixel perché? perché ovviamente il sensore che rappresenta da questi punti è un sensore fisico che ha delle dimensioni fisiche in cui ci sono dei diciamo così dei transistor dei CMOS che stimolati dai raggi dai fotoni che arrivano cambiano il loro stato di funzionamento quei CMOS occupano uno spazio fisico di qualche micron ok? quello dà la dimensione fisica del pixel quindi non si può scendere sotto quel sampling spaziale allora di questa cosa noi dobbiamo tenere conto ovviamente questo noi lo sappiamo perché l'immagine è rappresentata in pixel tuttavia qui sta parlando di un'altra assunzione ma questi pixel hanno dimensioni quadrate questa cosa non è detto che sia vera potrebbero avere delle differenze anche minime ma per questo motivo la matrice di proiezione per tener conto di questo in realtà ha dei fattori diversi quindi quello che prima era il fuoco della telecamera messo sui primi due elementi della diagonale diventano due fattori alfa e beta che in generale sono molto simili perché di solito i pixel sono più o meno quadrati però non perfettamente quindi quando noi vogliamo compensare quell'effetto dobbiamo mettere dei valori corretti l'altro aspetto che può essere sempre legato alla realizzazione di un sensore della telecamera è quello dello skew cioè noi abbiamo una pinol camera quindi immaginate di avere questa stanza con un foro in cui entra la luce che batte sulla parete bene l'immagine che vedrete sarà una proiezione perfetta solo se la parete di proiezione è parallela a quella di incidenza diciamo in cui entra la luce dal foro che cosa vuol dire vuol dire che nel caso di una telecamera vuol dire che il sensore CMOS deve essere montato in maniera perfettamente ortogonale al raggio che passa attraverso l'optical center questo ovviamente è più o meno vero però potrebbe essere allora in prima approssimazione noi possiamo sempre considerare che sia vero se non fosse vero nel senso che ci fosse un piccolo skew una piccola inclinazione allora quello che dovremmo fare è aggiungere un parametro di calibrazione qua per tener conto di questa differenza di proiezione che ci sarà legata al fatto che il sensore non è esattamente parallelo al piano di proiezione ok quindi sostanzialmente la matrice intrinseca è costituita da questi valori questi 5 valori ok quindi c'ha 5 gradi di libertà ora vediamo un attimo l'aspetto estrinseco allora cos'è l'aspetto estrinseco questo è abbastanza semplice se lo ricollegate a quello che abbiamo già visto nella lezione che ha fatto Giorgio tutto quello che vi ho detto è vero tenendo conto che l'origine delle coordinate di riferimento coincide con l'optical center questo qua è come dire le coordinate del mondo in cui noi rappresentiamo i punti 3D XYZ è esattamente il centro della telecamera in prima approssimazione non possiamo fare così se il nostro problema è tutto un problema solo legato all'immagine la sua generazione potremmo mantenere la nostra coordinate del mondo qua però la maggior parte delle volte non è così la maggior parte delle volte per esempio la telecamera è montata sul robot e il centro del mondo è magari un riferimento di coordinate che noi abbiamo in una stanza quindi sia il robot si muove rispetto alla stanza sia la telecamera non è nel centro magari di coordinate del robot questa cosa l'abbiamo vista martedì scorso quindi questo che cosa vuol dire? vuol dire che io devo esprimere anche in qualche modo l'effetto dell'orientamento della telecamera nel mondo ok? quindi tenere conto del fatto che quando io dico ok c'è un punto x, y, z nello spazio quel punto x, y, z è un punto le cui coordinate x, y, z sono prese rispetto a un riferimento che non è quello del centro della telecamera è un altro ma questo come si fa? in realtà questo lo sapete fare perfettamente richiede di comporre una trasformazione questa volta è una trasformazione rigida è sempre una matrice 3x4 perché noi stiamo lavorando con coordinate omogenee quindi abbiamo bisogno della quarta colonna però sostanzialmente è abbastanza semplice cioè questa parte questa parte qua è la traslazione quindi è dove si trova il centro della telecamera rispetto al mondo alle coordinate del mondo e la seconda parte è la rotazione quindi questa parte qua è la rotazione della telecamera rispetto al mondo ora una cosa importante da dire su tutto questo è il numero di parametri che ci servono abbiamo visto che per i parametri intrinseci ci sono 5 gradi di libertà per i parametri estrinseci ci sono 6 questo è abbastanza facile da capire perché questa non è una trasformazione questa non è un'omografia questa matrice rappresenta una trasformazione rigida 3D quindi ci sono i 3 valori delle traslazioni e poi ci sono i 3 angoli di rotazione quindi questi sono i 6 valori che dobbiamo determinare allora tutto questo che ci serve a sapere quanti sono i gradi di libertà allora noi vedremo in una lezione successiva che quando vogliamo utilizzare una telecamera io vi ho detto proprio a spanne ok ci sono questi parametri intrinseci per compensare questo questo e quell'altro e voi magari mi state chiedendo ok ma io come faccio a sapere quali sono questi numeri allora per sapere quali sono questi numeri ci sono delle procedure di calibrazione queste procedure di calibrazione si basano sulla geometria proiettiva non le vediamo oggi però diciamo così questi numeri possono essere ricavati in un problema di ottimizzazione il problema di ottimizzazione però tiene conto di tutto questa cosa perché io muoverò la telecamera nello spazio guardando una stessa scena da punti di vista diversi e poi risolverò un problema di ottimizzazione globale cercando di trovare sia le posizioni della telecamera nella scena nel mondo sia questi parametri quindi dovrò avere un numero di acquisizioni compatibile con il numero di gradi di libertà che sto cercando di stimare allora io direi di fare un secondo di pausa prima di no di pausa di domande in questa parte sono andato un po' un po' veloce quindi non so se ci sono dei dubbi oppure non avete capito niente sono quelle situazioni in cui la cosa è così poco chiara che non riesci neanche a fare una domanda potrebbe essere anche quella comunque questo aspetto magari avete bisogno un po' di tempo per digerirlo però vi dicevo in realtà è un aspetto abbastanza basico della computer vision quindi al di là del come l'ho spiegato io potrebbe essere male per fortuna ci sono diversi testi e non dovete studiare centinaia di pagine di solito ci sono poche pagine di qualunque testo di computer vision che possono spiegarvi più o meno cos'è questo processo di proiezione sulla telecamera quindi l'ultima cosa che volevo farvi di teoria oggi prima di presentarvi le esercitazioni è la relazione che c'è in questo processo di proiezione tra due viste diverse quindi supponiamo che io ho un punto nello spazio questo punto viene proiettato su due telecamere diverse ok in entrambi i casi la trasformazione è sempre una trasformazione proiettiva però i punti ovviamente nei rispettivi piani immagine sono spostati se io conosco qual è la trasformazione che c'è tra la posizione della prima telecamera e la seconda è possibile ricavare a partire dalla prima da per esempio io ho la posizione della prima telecamera rispetto alla seconda e so dove si trova la proiezione nel piano immagine potrei ricavare x1 sapendo solo queste informazioni la risposta è nì sì e no allora in alcuni casi sì direttamente però sono casi particolari che non veniamo nel caso più generale una cosa di cui avete bisogno è la profondità quindi questa cosa qua il fatto è che se io voglio sapere x con 0 x con 1 in che relazione sono io devo sapere in realtà a che punto di questa linea il punto p si trova veramente questa cosa l'ambiguità di questa cosa si può vedere più facilmente se vi faccio vedere riprendo la prima la prima immagine questa qua no se io ho due telecamere il problema qual è? il punto x il punto x1 il punto x2 il punto x3 nella prima telecamera sono rappresentati sempre dallo stesso punto xl quindi se io voglio sapere a che punto corrisponde xl nella seconda immagine io per saperlo devo sapere qual era la profondità lungo questo punto lungo questa linea quindi questa questa è un'ambiguità che io devo risolvere per poter fare in caso generale poi ci sono dei casi particolari tipo una rotazione pura della telecamera o cose di questo tipo in cui non serve questa informazione diciamo nel caso più generale io devo sapere qual è l'adept o dispariti qualche volta mi hai detto devo sapere questa informazione vediamo un attimo queste sono equazioni quindi le equazioni probabilmente ve le dovrete riguardare un attimo scrivere su un foglio una delle esercitazioni riguarda proprio queste equazioni quindi in realtà l'esercitazione è proprio lì per riuscire a avere a conquistarsi una comprensione più profonda di quello che succede però sostanzialmente io cerco di spiegarlo a livello qualitativo P è la matrice di proiezione che abbiamo visto che è composta da una matrice di valori intrinseci di calibrazione della telecamera più la posizione della telecamera nel mondo quando io proietto questa è la forma omogenea cioè io faccio questa forma qua aggiunge una riga a entrambe le trasformazioni per poter ottenere il punto nello spazio in maniera omogenea qui c'è un errore mio questa è e qui c'è il gatto scusate via allora ho usato la stessa lettera per il punto nello spazio per la matrice di proiezione questa cosa la correggerò ah no non è vero no no questa è la matrice omogenea scusate sono io confuso questa P tilde indica il fatto che ho trasformato l'espressione in matrice omogenea quindi ho aggiunto questa riga in modo da poter avere una volta proiettato il punto 3D anche il punto XS nel piano in forma omogenea diciamo così allora se voi andate a fare questa operazione in realtà non vi verrà questo vettore qua quello che succede in realtà quando voi fate questa operazione io qui ho messo un tilde perché non è una vera uguaglianza questa qua la vera uguaglianza quando fate la proiezione è questa qua è rappresentata qua cioè quell'operazione è questa qua ora lasciate stare che manca la quarta riga qua e la quarta riga qua che però sarebbe 001 001 no? quindi non aggiunge niente serve solo a mantenere quest'ultima coordinata in sostanza se voi vedete perché questa uguaglianza valga io devo mantenere la profondità del punto qua quindi che cosa vuol dire? vuol dire che quando io rappresento questa trasformazione in maniera matematica in questa equazione la profondità del punto deve esserci ok? per poter far tornare la trasformazione quando io vado a guardare l'immagine però sto considerando solo questo vettore quindi questo questo w lo perdo è un'informazione che perdo ok? cioè sostanzialmente se io vi do un'immagine non vi sto dando w vi sto dando solo uv i loro valori di intensità diciamo così luminosa e la loro posizione se non vi do la corrispondente posizione nello spazio per ogni punto voi non potete riuscire a scrivere questa equazione così completa ok? questo che cosa significa per noi? significa che quando facciamo la riproiezione allora quando facciamo una proiezione è facile perché è come dire prendo un punto 3d lo moltiplico per quella matrice verrà fuori un altro punto il w o la d perché in queste queste slide si era indicata con d lo cancello lo dimentico lo perdo ok? nel momento in cui l'ho proiettato a me interessa solo dove sta nell'immagine se io non me lo annoto da qualche parte diciamo così non posso fare l'operazione inversa cioè la riproiezione che la riproiezione vuol dire prendere questo punto che ho appena avuto appena calcolato invertire le matrici di proiezione invertire quella matrice 3x4 o 4x4 in questo caso che è omogenea e ricavare il punto P però quel punto P io non lo ricaverò ricaverò una linea senza sapere quella profondità quindi anche qui c'è il tilde perché per poter diventare un'uguaglianza io devo fare un'operazione qui che è quella di moltiplicare per la profondità se quell'operazione viene fatta allora io posso scrivere questa equazione qua con un'uguaglianza cioè una volta che ho ritrovato il punto P in 3D lo posso proiettare nuovamente conoscendo la camera matrix della seconda telecamera ah io sono sicuro che questa cosa spiegata a voce non ci si capisce niente io non ci ho capito niente finché non l'ho implementata dai tempi quindi una delle cose che noi faremo nell'esercitazione è proprio un esercizio su questa cosa qua in modo tale che uno capisca quali sono le cose che stanno avvenendo in ognuno di questi passaggi quindi diciamo questa slide o quella che potete trovare su un qualunque libro di computer vision vi serve come riferimento per riuscire a implementare questa trasformazione allora quindi io vorrei presentarvi l'esercitazione l'unica cosa prima di fare l'esercitazione volevo giusto farvi vedere questa scena qua del pinhole questo l'abbiamo già visto volevo dirvi com'è che risolviamo il problema del fatto che pochi raggi colpiscono la telecamera allora questo problema è risolto dall'avere una lente la questione è il modello pinhole è il modello della telecamera che noi utilizziamo le telecamere che utilizziamo non sono pinhole hanno un foro molto più grande e hanno una lente o più di una lente quindi queste due cose come si mettono in relazione nelle slide che seguono che io non spiegherò si vengono introdotte alcuni concetti su come funziona un modello di lente chiamato lente fine allora è una cosa che non credo che spenderò tempo nel corso di questo corso però è interessante perché sostanzialmente è una teoria che raccorda la telecamera reale quella con le lenti al modello ideale che ci siamo fatti che è pinhole cioè di fatto tenendo conto di come funzionano le lenti noi comunque possiamo lavorare con una geometria proiettiva pinhole e la lente fa un lavoro per noi la lente e l'apertura del diaframma della telecamera fanno un lavoro per noi cioè permettono di fare entrare più luce altrimenti non sarebbe praticamente possibile avere dei robot che vanno in giro con delle telecamere però di questa cosa non parlo se volete approfondirla potete guardarla autonomamente oppure possiamo parlarne un'altra volta invece se ci sono domande ovviamente scrivete io vi presento l'esercitazione velocemente prima di perdere la voce sostanzialmente venerdì faranno questa esercitazione verrà condotta da Luca Luca e da Sara Luca vi farà alcuni esercizi di algebra lineare esercizi proprio cioè penso che ve li darà e voi avrete tempo per farli poi vi farà vedere la correzione penso che andrà così non sono difficili non sono difficili come esercizi quindi dovrebbero bastare 20 minuti mezz'ora 40 minuti non lo so insomma ci si vorrà un po' di tempo l'altra metà dell'esercitazione sarà su questi esercizi di codice per cui come dicevo il prerequisito in questo caso non è un grande setup basta che riusciate a girare del codice Python io ho scritto dei testi di esercizio diciamo così utilizzando Jupyter però vi fornirò anche magari dei semplici file .py in modo che voi possiate decidere se volete farlo con Jupyter oppure se volete utilizzare un IDE qualunque oppure farlo proprio da editor fate come preferite sostanzialmente però sarà una semplice esercitazione utilizzando Python quindi quello di cui avrete bisogno sarà creare un virtual environment per incapsulare i pacchetti che vi servono che sono più o meno sono OpenCV e non P niente di più matplotlib per riuscire a plottare qualcosa e poi c'è PIL per qualche elaborazione di immagine anche se in realtà potreste utilizzare anche solo OpenCV dipende insomma quello che preferite in questo caso non è molto importante allora l'idea qual è? la prima task che avrete sarà quella di programmare un'omografia quindi questo è un problema reale che noi avremo quindi una volta capito cos'è un'omografia una volta capito tutto quello che c'era nella teoria il punto è io che ci faccio con queste cose allora il vostro robot ideale che naviga per un ambiente a un certo punto si troverà a vedere un'immagine con un cartello di qualche tipo per capire dov'è dovrà leggere questo cartello il punto che è per leggere un cartello e riuscire per esempio a fare character recognition bisogna partire da un'immagine che sia frontale raddrizzata e questo ovviamente a causa della proiezione della geometria proiettiva per un'immagine casuale non è possibile questa immagine è in prospettiva quindi il piccolo esercizio che dovete fare è creare uno script in cui data un'immagine uno possa selezionare quattro punti sull'immagine originale non so se vedete ci sono quattro pallini rossi qua perché io ho tirato l'ho disegnato con OpenCV diciamo nella soluzione in cui con il mouse ho indicato quattro punti dell'immagine che sono i punti di partenza poi devo dargli quattro punti di arrivo e utilizzo le funzioni di OpenCV Gap Perspective Transform e Worps Perspective che non sono quelle che abbiamo visto prima sono altre due funzioni che permettono di raddrizzare quindi hanno bisogno di quattro punti perché ci sono otto gradi di libertà da risolvere quindi l'esercizio sostanzialmente ha due sfide la prima vabbè è quella di applicare questa cosa che secondo me è abbastanza ovvia in più vi richiede di utilizzare l'event handling di OpenCV cioè catturare il mouse click e fare delle cose rispetto a questo mouse click quindi questo esercizio vi richiederà un po' di esplorare come OpenCV gestisce l'event handling e di fare un piccolo loop in cui questo event handling viene gestito questo sarà il primo esercizio il secondo esercizio è abbastanza più complesso nel senso è più complesso da un punto di vista di ragionamento una volta programmato su poche linee di codice però sostanzialmente si tratta come vi ho detto di programmare le equazioni di riproiezione perché questa cosa è importante perché è interessante per esempio avere una comprensione profonda di come funziona questa cosa è importante per esempio per tutti gli algoritmi di visualodometri perché la stima del movimento di una telecamera partendo solo dai video si basa fondamentalmente su varianti di questa semplice equazione di riproiezione alcune volte viene espressa in termini di un problema di ottimizzazione però di base comunque alla sua essenza è sempre questo quindi capire bene che cosa sta succedendo ci aiuta poi a affrontare problemi più complessi quindi quello che succederà nell'esercizio è che voi avrete una serie di punti nello spazio visti da una telecamera che brutalmente sono disegnati come dei quadrati colorati in realtà questi sono la rappresentazione di punti messi in maniera piramidale vale a dire che il rosso che vedete qua è un punto più vicino alla telecamera mentre gli altri quattro punti sono la base della piramide io vi do la telecamera la vista ai punti con le rispettive profondità bisognerà trasformare la seconda telecamera cioè capire qual è la trasformazione strinseca della seconda telecamera rispetto alla prima e poi proiettare i punti che vediamo qua nella vista della seconda telecamera e dovrebbe venirvi fuori una vista più o meno così nel senso che qui c'è un 3D che è un po' fake in realtà nel senso che questi sono pixel sono punti però io ho disegnato i quadrati con una dimensione che dipende dalla distanza dal piano immagine per avere un senso di prospettiva però non è che sono dei cubi ok quindi questo lo vedrete nel codice di esempio sostanzialmente voi dovreste scrivere riuscire a capire qual è la trasformazione e scrivere di nuovo l'equazione di riproiezione per scrivere l'equazione di riproiezione vi serve di capire quali sono questi passaggi quindi ci sarà quindi ci sarà il codice ci saranno alcune funzioni che ho scritto per aiutarvi tipo per trasformare un vettore in un vettore omogeneo o cose di questo tipo però insomma questo potrebbe richiedere un po' più di tempo e gli esercizi vi vengono dati oggi io caricherò stamattina anche il testo dell'esercizio e i due script due o tre script che vi servono voi potete farli durante la settimana se li risolvete durante la settimana magari venerdì neanche vi collegate non lo so se però volete sapere o volete risolverli interattivamente o volete sapere come li risolve il vostro tutor questo è quello che verrà questo è quello che farete venerdì ok quindi più o meno ci siamo io sto finendo la voce se ci sono domande io rispondo a tutte le domande che mi fate se no ci salutiamo siete vivi ancora? ancora? vedo che alcuni stanno andando quindi sì va bene allora se non ci sono domande ok grande flamenco sì venerdì avremo anche la soluzione dell'esercitazione certo certo sì sì però prima di avere la soluzione ci sono un po' di giorni perché comunque al laboratorio purtroppo l'ideale sarebbe vedersi tutti nel laboratorio e fare l'esercitazione insieme e così magari noi docenti e i tutor possiamo passare tra i banchi e fare insieme aiutare fare insieme le cose questo ovviamente quest'anno col covid è impossibile già visto è stata una lezione per mandare tutta l'aria quindi quello che succede è fate fate se volete guardate gli esercizi io vi consiglio di guardare gli esercizi di provare a risolverli di utilizzare il vostro tempo per risolverli perché sostanzialmente l'apprendimento la lezione frontale lascia poco l'apprendimento passa attraverso l'apprendimento passa attraverso sporcarsi un po' le mani quindi fate questo test e il venerdì Luca e Sara vi faranno vedere le soluzioni proposte poi magari la vostra soluzione sarà diversa ma almeno avrete un senso di come si può risolvere il problema poi si chiede le slide sono prese da più libri allora la realtà è che le slide sono prese da un corso di computer vision che insegna un mio collega a Perugia e mentre quelle che io però le ho modificate e quindi il libro da cui lui prende le slide onestamente ancora non ho capito qual è io vi manderò i riferimenti di tutti i due libri poi ovviamente quei libri è possibile che siano disponibili in pdf senza troppi senza troppi fronzoli però di nuovo io vi dico se dice sì è possibile che sia quel libro algoritmo in application nel senso questi libri io ce li ho tutti in pdf ce li ho anche di carta non so quali siano di rm free non so quali possono essere quello che vi ho scritto penso possa essere recuperato senza dover essere acquistato fisicamente di carta ok però vi scriverò tutti i libri poi voi li li procurate come volete ok io ambasciatore non porta a pena ok sì come anche allora vi mando i riferimenti dei libri quindi state tranquilli trovate tutto senza problemi il libro più completo di tutti è lo Zisserman però è molto pesante da un punto di vista di matematica quindi non lo so per imparare all'inizio secondo me non è il massimo ok direi che se ci siamo possiamo salutarci ci salutiamo a venerdì vi manderemo email per annunciarvi eventuali variazioni di tutta la questione